L'abbiamo portato come associazione AF degli enti di formazione professionale della Lombarda, abbiamo portato al tavolo uno sguardo locale, uno sguardo un po' micro, un contributo che riteniamo prezioso perché noi siamo sul campo e quindi integrare la visione locale con la visione globale della regione penso che sia la strada che prenderà questo tavolo. Prendiamo l'impegno di starci in questo tavolo e di continuare così. Il Presidente ci ha prospettato veramente un bel futuro per questo tavolo, parteciperà alla regione formalmente e quindi andiamo avanti, non tanto per risolvere i problemi in maniera superficiale, ma per cercare una sostenibilità e di mantenere la qualità alta che in provincia di Bergamo la formazione professionale sta dimostrando di dare.